Era nostro dovere invitarla al matrimonio. Forse non potrà venire, ma un dovere è un dovere. E questo è il washib. Siamo in macchina per fare la prossima consegna. Pensa, restano ancora 340 inviti. Casa per casa, stile Nazareth. Come vorrei che fossi qui. Vivi sempre con Salma. Si chiama Nada, papà. Com'è l'America? L'Italia. Tuo padre dice che vuoi tornare, vero? Intendi qui? No, io... Ci sono degli ottimi ospedali qui. Io sono architetto. Che c'è che non va in quello che faccio? Non fa che parlare di te. È così orgoglioso. Avrei voluto anch'io un padre che parlasse così tanto di me. Tu che dici, papà? O dovrei aspettare mamma e chiedere a lei? Forse mamma non riuscirà a venire. Sarai la sposa più bella. Grazie, papà. Ti conosciamo in questo insediamento. Ronnie A. Non lo inviterò al matrimonio di mia sorella. È perché non... È uno shabak. È una spia dei servizi segreti. È un amico, non è una spia. Tu vivi in Italia, io vivo qui. Il matrimonio non è il 18. Ma è uno scherzo. Oh merda, non ci posso credere. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!